Carini Quindi Bene Peglia ben l'ho fatto che erano sono state da un bar, sono state da un bar, sono state da un mucigliere, sono un gioccio, sono state da un muciglio, sono state da un muciglio, perché c'è una calzza di fruta buona, con il panino e l'altro di natale, mi sono state da un altro, mi sono state da un muciglio, abbiamo mangiato, però ancora noi qui hanno un muciglio, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.